La Lusso è un'azienda manifatturiera metalmeccanica che opera nel settore dell'idrotermosanitario. Realizziamo valvole per radiatori, tubi e residui per rubinetteria e operiamo in 60 nazioni al mondo. Il nostro principio è quello di dare agli installatori, agli idraulici prodotti di qualità che rispettino ad esempio le norme che esistono in ogni paese al mondo riguardo all'igienicità dei prodotti che vengono utilizzati a contatto con acqua potabile. Il nostro elemento che controlliamo è l'acqua, sia l'acqua che noi beviamo attraverso i tubi flessibili che collegano il rubinetto di erogazione con l'impianto idraulico idrico di casa e controlliamo anche l'acqua del riscaldamento ovvero sia con sistemi di regolazione del flusso dell'acqua sui radiatori o anche nelle centrali termiche con dei sistemi molto innovativi. Noi siamo associati da parecchio tempo, abbiamo trovato in AIB un apporto di competenze e di conoscenze e è l'orgoglio anche di appartenere a una community di imprenditori bresciani molto forte, molto coesa e questo veramente ci permette anche di vedere le attività esterne o dei colleghi con dei confronti continui. AIB è caratterizzata sicuramente dalle ottime professionalità, io ho la fortuna di essere vicepresidente di AIB e di avere uno staff che sicuramente è molto preparato e molto a lattezza, avendo poi un'importante delega come vicepresidente, quella delle relazioni industriali ovviamente anche la formazione continua a livello della struttura è sempre stata garantita. Lo shooting fotografico è stata un'esperienza molto divertente ma è limitativo dire divertente perché ha potuto conoscere prima di tutto lo staff che ha eseguito lo shooting è estremamente professionista e professionale e poi sono riusciti a far emergere quello che in effetti è un po' la caratteristica che mi vede in azienda sono flessibile, è stata una bella esperienza, peccato che magari non posso più riproporla l'anno prossimo ma se mi viene richiesto mi inventerò qualche cosa.